Allora abbiamo detto che ci sono diversi modi per parlare con chat GPT uno di questi è direttamente con bing.com quindi se su bing.com andiamo e scriviamo bing.com e chat abbiamo l'accesso alla chat famosa che abbiamo visto anche prima all'opera oppure dalla finestra principale della search di bing abbiamo la possibilità di cliccare su chat quindi ci troviamo esattamente nel posto di prima ora notate che quando siamo dentro la chat abbiamo la possibilità di generare risposte molto creative, bilanciate e poi molto precise allora se cerchiamo, tra l'altro notate che quando scegliamo una di queste diventa verde o blu oppure rossa per dire la temperatura in qualche modo di quello che risponde quindi se noi facciamo precise ad esempio che è il verde vuol dire che noi siamo praticamente nella situazione più tranquilla allora, notate che qui abbiamo le chat si possono fare un po' come si faceva nell'altro programma ma siamo limitati a otto richieste consecutive se no poi dopo bisogna cliccare qua e cambiare argomento quindi se noi gli chiediamo qualcosa tipo qua di che colore era il cavallo bianco di Napoleone così vediamo anche quale modello sta rispondendo perché abbiamo visto che rispondevano in modo diverso e quindi dicendo che era il bianco vuol dire che sta rispondendo il modello praticamente free, non la parte sofisticata però se vogliamo avere ad esempio risposte un po' più ci sono informazioni storiche diciamo attendibili allora se facciamo questa domanda cioè in realtà stiamo facendo una chat non so se però avete notato che cambia un po' di cose nel senso che in realtà a seguito della chat vengono fatte delle richieste e queste richieste sono fatte sul web e di conseguenza si hanno praticamente delle informazioni un po' più utili per esempio in questo caso è andato un po' più oltre e ha detto che il cavallo era effettivamente bianco dice uno stallone arabo eccetera che si chiama Marengo che era noto per selezionare la bustezza e coraggio e vedete qui ci sono riferimenti ai punti da dove ha trovato queste informazioni ora qui non è proprio una chat perché domanda in domanda lui propone degli argomenti per andare avanti ad esempio stiamo parlando di Napoleone e vorremmo poter domandare qualcosa su Napoleone se vogliamo sapere anche qualcosa di più sul cavallo possiamo cliccare qua quindi in realtà è una chat un pochino più neutra e si capisce che stiamo avendo a che fare con un motore di ricerca che va a cercare su internet e ci dà le risposte questo anche per, abbiamo visto, toglie un po' la personificazione di chat e CPT quello che trova comunque è quello che si trova su internet quindi se noi vogliamo qualcosa di tagliato possiamo usare delle cose raccontami cioè no, aspetta, più che raccontami cioè descrivimi in dettaglio le battaglie di Napoleone ad esempio uno, due, dieci per esempio per dire vediamo un po' se funziona il trucco del preelenco puntato probabilmente no però gli abbiamo detto di scrivere in dettaglio quindi lui sicuramente dovrebbe trovare qualcosa ok mele mele descriveresti come elenco puntato in pratica volevo un elenco puntato lui non l'ha capito e vediamo se lo capisce ok come vedete facendo le domande in maniera senza neanche impazzire comunque dicendo vabbè ecco vedete che qui ne ha messo ne ha messo solo tre cerca di essere molto conciso ora se riusciamo ad andare avanti vediamo che a un certo punto ce ne sono altre possiamo chiedere ce ne sono altre quindi abbiamo di nuovo la ricerca niente c'è la ricerca e voglio solo arrivare fino alla battaglia specifica Lipsia gli chiediamo Lipsia raccontami della battaglia di Lipsia che è questa vedete ci piega un po' perché oltre a cercare su internet deve comunque creare un po' di di raccogliere le informazioni e di organizzarle che ci impiega un po' di tempo però se notate è abbastanza corto allora beh continuare a chiedere quindi facciamo la conversazione che continua proseguenze battaglia Lipsia ok vedete che tra l'altro questo qui il colore che era verde delle prime domande è diventato arancio e poi è diventato rosso per dire che non possiamo più chiedere niente infatti quando è arrivato la fine dice non potete chiedermi più niente quindi questo era il po' il succo insomma quindi dovete fare New Topic e quindi passare un altro argomento notate che quando fate le domande potete anche fare il copy and code da risposte quindi diciamo e quindi andare avanti